La campagna elettorale è fatta di entusiasmo, adrenalina, confronti, anche festa. Adesso mi rendo davvero conto che inizia un'altra storia, che vogliamo caratterizzare però con lo stesso entusiasmo e con le persone che hanno dato una mano in modo genuino in campagna elettorale e con tutte le cittadine e i cittadini che avevano voglia di seguirci, partecipare a questo progetto amministrativo. Quindi da oggi inizia davvero questa avventura e non riesco nemmeno a nascondere un po' di emozione perché mi rendo conto davvero adesso di cosa è successo e cosa succederà nei prossimi giorni. Quello che posso dire è che darò l'anima, darò tutto me stesso, come ho detto ovviamente nel totale rispetto delle regole, cercando di portare la nostra sensibilità e sono le stesse caratteristiche che chiederò a chi lavorerà con me in giunta e a tutto il Consiglio Comunale, anche se il Consiglio Comunale non ha certo bisogno dei miei consigli. Un'ultima cosa, il prossimo passaggio temporale sarà la composizione della giunta, anche da questo punto di vista ci sono novità? No, non c'è nessuna novità, a parte quella che abbiamo già annunciato della dottoressa Perrone al bilancio. Credo che entro la fine della settimana annunceremo una nuova giunta, comunque arriveremo a definire gran parte della stessa. Grazie a voi, buon lavoro.